A marzo dello scorso anno è stato presentato il nuovo Jogger, il veicolo familiare più accessibile del segmento C che garantisce il miglior rapporto qualità prezzo della categoria. Sono oltre 9.000 clienti che hanno scelto Jogger in Italia e più di 94.000 in Europa, un vero successo. Oggi abbiamo il piacere di presentare il nuovo Jogger Hybrid, il primo veicolo ibrido della gamma Dacia. Con il lancio della motorizzazione Hybrid 140, Jogger continua a viaggiare fermamente in questa direzione rispondendo alle esigenze dei clienti che ricercano un'auto versatile ma con i vantaggi della guida elettrica. Grazie al know-how del gruppo Renault Dacia persegue la strada dell'elettrificazione garantendo il miglior rapporto qualità prezzo sul segmento ed offrendo Jogger Hybrid a poco più di 25.000 euro in Italia.